Abbiamo avuto la fortuna e l'impegno di essere ingaggiati in un progetto così entusiasmante, quello del recupero e della valorizzazione di un manufatto storico che per Molfetta rappresenta forse l'elemento più identitario, una sorta proprio di immagine urbana sul waterfront molfettese. C'è stata una grande empatia con l'edificio, perché è chiaro che non si può rimanere impassibili davanti a un edificio che è così ricco di storia e così ricco di fascino. Tutto il progetto, tutta la realizzazione è sempre mirato a garantire una qualità minimamente invasiva, in linea con tutto il concetto del restauro e del recupero di questo edificio. Abbiamo lavorato sulle spigolature, vuol dire non guardare esclusivamente da un punto di vista generale, ma soffermarci sul significato e il valore che ogni dettaglio ha all'interno di una struttura, perché spesso dal dettaglio si recuperano quelle che sono le componenti primarie e diciamo anche gli elementi di bellezza che poi vengono spolverati e restituiti al tutto. Tutta questa progettazione è iniziata circa una decina di anni fa, è stata un'operazione attentissima, perché siamo sempre stati vicini al concetto della tutela di questo bel monumento. Il nostro intervento insieme appunto al team di progetto è stato quello di restituire integrità e funzionalità, senza però tuttavia trasformare quelli che sono gli elementi specifici e le pelli originali dell'edificio. Io penso che fin da subito si sia colto la forza che era all'interno di questo edificio, che ha subito spinto il nostro pensiero sul recupero e che pensiamo di aver condiviso con un gruppo di lavoro veramente molto stimolante che ha arricchito moltissimo, che ha condiviso la visione e che ha permesso di realizzare questo intervento in maniera molto attenta, molto visionaria, lasciando un segno importante nella città, che era quello che volevamo fare. Oggi nella ricettività crediamo ci siano le chiavi di lettura di un futuro importante per questa città, un futuro basato proprio sull'ospitalità, relazioni umane, relazioni culturali e relazioni sociali. Auguriamoci che possa essere un'operazione importante per la nostra città, ci auguriamo che ci possa essere un risvolto serissimo, anche in collegamento con le ipotesi future di ampliamento e di avvicinamento del porto turistico nella nostra zona. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!